Io mi immagino, per quello che ho visto, Loccioni, l'azienda, come un grande albero che ha solide radici sul passato e sul presente, ma cresce verso il futuro e cresce attraverso questa capacità di creare legami, legami tra tradizione, innovazione, cultura, legami tra generazioni, chi ha esperienza e chi porta competenze nuove, che si pone poi alla frontiera del mondo che cambia, quindi che interpreta la complessità, quindi la capacità di interpretare la complessità come opportunità per trovare nuove soluzioni che migliorano la realtà in cui le persone vivono. E lo fa attraverso un'energia, che è quella che maggiormente cerca di valorizzare, che è quella delle nuove generazioni, le intelligenze, le idee, la voglia di fare, le nuove competenze che vogliono portare, sono ciò, e Loccioni lo dimostra, che consente alle aziende che sono top nel mondo, nei vari settori, di continuare a crescere, a innovare, a sperimentare un mondo che cambia e a cercare di migliorarlo. Grazie.